Sei stato agli incontri di codice internet stavolta? Sì, sono appena uscito. Cosa ti ha interessato? Ma parlavo un po' in generale dell'utilizzo di internet e delle opportunità che può offrire. Io comunque già uso spesso internet. Per cosa lo usi? Ho un blog, gestisco alcuni forum, guardo i film, un blog mio personale, poi sui miei interessi. E per i social network ti interessano? No, magari sono anche scritto alcuni ma li ho lasciati proprio a morire. Perché? Non mi interessano di tanto, preferisco il contatto umano alla conoscenza. Poi comunque sui forum che frequento io e che gestisco sono anche loro in parte di social network e dove si può incontrare gente e interagire parlando dei interessi comuni. C'è qualcosa di internet che non ti hanno mai detto e che vorresti sapere? La quantità di controllo che c'è. Cioè? Cioè quanto siamo controllati attraverso internet, vorrei sapere. Realmente quanto siamo controllati attraverso internet. Grazie. Sicurati. Grazie. Grazie. Grazie.